Ciao, bella gioia. Ciao. Mi sono a cambiare apposta. Ciao, bella gioia. Ciao, bella gioia. Ciao, bella gioia. Cosa sai il numero? Com'è? 81. Ah, è tutto cos'è qui in fondo. 81. Che palletto è? 159. No, ma la voce non è la voce. Dov'è la voce? È la più, Dio. No, no. È arrivato. No, ma la voce non è la voce. No, ma la voce non è la voce. faccio questo, su, vai! allora, che topata, bravo!